con il coach Massimo Scotti e Fabio Agagliati e si prendono la piazza 70-80 punti prima di 6 salti per 74 punti per i previnieri ed ecco il nostro team Italia entrati carichi dopo le ultime parole con il coach Massimo Scotti e Fabio Agagliati pronti, una bella carica nei visi speriamo forza ragazzi, ultimo sforzo della giornata musica bene la sezione iniziale illusion ruota a terra pulito nice beginning for Italy purtroppo due cadute two drops bella coreografia aerea musica Well done, on the roads, it seems to have recovered, one spin double, another drop for Luca, he must be tired after the day of competition. Bello, Salvo recupera e anche Luca, bella questa sezione di scambi arti. Nice effect on this. Well done on the complex catch with spins. Bene sulla ripresa complessa dei giri, entriamo in una sezione complessa con i bastoni multipli. I never know I've ever seen this place. What a wonderful world. Just how I live to myself. Oh, what a wonderful world. Sfortunatamente una caduta in precedenza alla sezione bastoni multipli ha impedito di completare bene quella parte. C'è stata una caduta finale. And so we have seen that drop before the multiple baton has impacted the choreography and the ability to complete that section properly with another drop to follow that. Overall, good performance and good energy, a few drops, a few extra drops that they will unfortunately be deducted from their scores. Hey, Team Italia.